I carabinieri di Cerignola hanno arrestato in fragranza di reato il 32enne rumeno Yonut Daniel Kocilnau per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali. Allertati dalla telefonata di una donna che chiedeva aiuto, i militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione di Cerignola e sorpreso mentre picchiava brutalmente la compagna, anch'essa rumena. Il Kocilnau veniva immediatamente bloccato mentre la malcapitata veniva soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola dove i medici le riscontravano contusioni in più parti del corpo e un trauma cranico. Dal racconto della donna e di alcune testimonianze si è appurato che durante la relazione iniziata nel periodo di Pasqua di quest'anno l'uomo infliggeva spesso alla donna violenze fisiche e psicologiche e la costingeva con violenza a subire rapporti sessuali. Altri tre rumeni, il 24enne Marian Alexandro Radut, il 28enne Adrian Cordus e la 22enne Ionelia Popovici, tutti residenti in provincia di Taranto, sono stati arrestati per concorso in tentata rapina aggravata e tentata truffa. Millantanto di aver ricevuto il resto sbagliato dopo un rifornimento di carburante, avevano aggredito il benzinaio cercando di rubargli anche l'incasso della giornata. Sempre a Cerignola è stato tratto in arresto in flagranza di reato il 37enne Roberto Tarantino per tentato furto aggravato in concorso. L'uomo, con l'aiuto di due complici, stava cercando di smontare le quattro gomme di una Toyota Yaris parcheggiata in pieno centro. I tre, sorpresi dall'arrivo dei carabinieri, abbandonavano gli attrezzi e si davano alla fuga tra la folla sul corso. Il Tarantino veniva raggiunto e bloccato, ricercati ancora i complici.